Ciao, sono Alessandro Maiorana, vivo a Voghera, in provincia di Pavia. Mi occupo, tra le altre cose, di FT, Yoga della Risata, e nell'ultimo anno la meditazione e la presenza stanno entrando sempre di più nel mio percorso. Quindi sono contento di avere la possibilità di condividere con te il mio percorso fino a questo punto. Se ci sarai, e iscriviti al webcam, mi raccomando, per esserci, faremo assieme dei semplici esercizi di meditazione, di presenza e di FT assieme al servizio dell'ascolto di sé, dove ognuno, con il proprio passo, la propria efficacia e la propria verità che ne scaturirà, si confronterà sul tema di chi sta praticando che cosa e che cosa rende realmente efficace, effettivo il lavoro su di sé. Quindi, con gioia e gratitudine per la possibilità che mi viene data, ti aspetto il 12 maggio alle 21 all'IET Webcamp. Ah, ecco, se ti dovessi illuminare tutto nella serata, dillo subito perché sarebbe bellissimo, è prima esperienza la DFT Webcamp per me. Ma anche se non dovesse succedere, va bene così, è tutto perfetto. Quindi grazie se ci sarai. Ciao!